Buongiorno, sono Davide Tuberga, product manager di Marca Corona, l'azienda ceramica più antica del distretto di Sassuolo. Quest'anno Marca Corona indaga il macro trend del momento, trasformazione natura, proponendo due diverse collezioni che fanno ad abripista ad un lungo seguito. L'elemento comune di entrambe è la pietra, il tipo di materiale che ci ha dato l'ispirazione. Sono due collezioni concepite insieme ma allo stesso tempo soluzioni indipendenti. Vi presento brevemente una delle due collezioni che fa parte di questo percorso, Tide Rod. Tide Rod prende ispirazione da una pietra brasiliana molto ricca e rara, uno scisto caratterizzato da inclusione di minerali dovute al passaggio dell'acqua sulla superficie e da milioni di anni di sedimentazione. La collezione vanta due diverse grafiche che sono a loro volta ispirate, ai due diversi tagli che è possibile fare sulla pietra originale. I vein cut dalle caratteristiche venature e il cross cut dalla grafica omogenea. Tide Rod rappresenta una soluzione ottimale per completare gli ambienti sia a pavimento che a rivestimento. La collezione è declinata su cinque diversi colori, light, platinum, sand, silver e graphite e garantisce la possibilità di abbinamento tra le due diverse grafiche. Tra i numerosi formati spicca il nuovo 8080, un grande formato che però conserva la sua facilità di posa. La finitura naturale del prodotto si avvantaggia di una nuova tecnologia produttiva che le conferisce al tempo stesso un'ottima capacità antiscivolo e anche una mano molto morbida. Arricchisce la collezione il piccolo formato decorativo 7,5x30 con grafica vein cut, perfetto per piccole quinte a rivestimento o come mattoncino da esterno. A completare la collezione i formati strutturati da esterno che anche in questo caso si avvantaggiano di un nuovo formato, il 60x120, utile per realizzare scale senza tagli oppure per fare marciapiedi con la giusta profondità. Un saluto e grazie a tutti per l'attenzione.